Buonasera Aspiranti Fotografi e benvenuti a questa prima puntata della terza edizione di Convivium. Wow, sono felicissimo, felicissimo di riniziare questo ciclo che davvero mi è piaciuto tantissimo, nelle prime edizioni mi ha davvero dato tanto e sono davvero troppo felice di rincominciare. Tra l'altro abbiamo un claim quest'anno che è Convivium, l'Itteca per Aspiranti Fotografi. Porca, io faccio o mero. Esatto, esatto. La maga Circe, cosa sono? Allora, guarda, ho deciso di rincominciare con te, te lo dicevo fuori onda, però mi piaceva ricondividerlo insieme, perché ormai un mesetto fa, no, più o meno, sono stato da te al workshop che hai tenuto a Venezia, tra l'altro location meravigliosa, va detto, insomma, il contesto bellissimo, anche il tempo ci aveva graziato, tra l'altro, proprio bellissima esperienza. E quando sono uscito da quei tre giorni, ho detto, aspetta, fermi tutti un attimo, perché mi sa che qua c'è ancora un sacco da dire, davvero un sacco da dire, visto che mi hai tramortito, cioè proprio sono uscito da lì tramortito, a terra, cioè positivamente a terra, no? Ho detto, no, dai, qua c'è ancora un sacco da dire, devo ricominciare con Convivium, e mi piaceva l'idea di ricominciare con te, perché, insomma, vista le esperienze che abbiamo fatto insieme, ho detto, no, dobbiamo parlarne, cercare di parlarne un po'. E quindi stasera, per la terza volta, tra l'altro, su Convivium, settimo benedosi, ciao, come stai? Ciao, Michael, bene, tu? Molto bene, molto bene, molto bene, devo dire. È un buon vento di essere di nuovo qua. Sto cercando di riprendermi ancora dalle esperienze che abbiamo fatto insieme. E infatti, cioè, più che eventualmente tu intervistare me, forse sono io che intervisto te, perché in effetti non mi è mai successo di fare una diretta video e magari un approfondimento con qualcuno dopo un mio workshop, quindi se è un caso molto interessante, e quindi sono io che chiedo a te. Ovviamente non voglio né elogi, o piuttosto preferisco critiche, però sono molto curioso di sapere cosa mi racconti, cosa dici su questi tre giorni di workshop a Venezia. Allora, devo dire... È ribaltata, sono io che intervisto te. Esatto, intanto mi piace questo ribaltamento di intervista, così io ci sto per partire a Venezia. Allora, devo dire che sono partito, beh, diciamo che quel workshop mi aspettavo fosse, si parlasse di ricordi, no? E quindi io sono partito con quell'ottica, ho detto, beh, dai, mi piace, ho già visto il progetto dall'interno, l'ho già visto più volte, magari questo è un approfondimento di questa cosa, quindi bellissimo, insomma, non vedo l'ora di farlo. Ok, sono arrivato e in realtà già dal primo giorno ho capito che le cose erano direzionate in una direzione un po' diversa, ma molto più profonda. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che di fatto noi, per tutta la prima giornata, non abbiamo toccato la macchina fotografica, ma quando siamo usciti tutti eravamo fotografi diversi, tutti con il cuore un po' spezzato. No, devo dire che descriverlo è difficilissimo, perché nonostante sia stata un'esperienza di soli tre giorni, in realtà è stata talmente densa e talmente piena di cose, di punti focali, di punti di svolta, che per metabolizzarlo ti ho detto ancora non ci sono riuscito bene, tra l'altro sento i ragazzi che hanno partecipato al workshop, eppure loro sono messi più o meno nella stessa situazione, nessuno si è ristabilito bene a questo workshop. E guarda, forse la cosa che più di tutte mi sono portato a casa, no, ce ne sono tantissime in realtà, però la prima penso che sia, anzitutto, avere un'intenzionalità quando si fa una foto, cioè sapere cosa stai facendo e perché lo stai facendo, quindi, come dire, volgerti nei confronti della fotografia con un ruolo, un'idea forte, anche un'idea semplice, ma basta che sia forte e precisa. E già questo, devo dire, tipo, ok, già questo. E l'altra cosa è fare lo sforzo di aver coraggio, anche, no, di mettersi in gioco, che comunque fa tutta la differenza del mondo, fa davvero tutta la differenza del mondo. Sì, riferito al fatto che tu dica, e ovviamente in qualche maniera mi fa piacere, anzi, mi fa piacere basta, che ancora tu e tutti gli altri dovete un po' metropolizzare. Ti dico solo che per un po' di tempo, adesso non so perché neanche io, perché poi le cose mi piace cambiarle, però per un po' di tempo il workshop, non lo chiamavo workshop, ma lo chiamavo warshock. Chi è giustissimo? Almeno arrivavo preparato, capito? Almeno non sapevo niente di principio, capisci? Invece no. Warshock forse è meglio. Non era male, sì. Però warshock, in verità, nella fattispecie adesso, soprattutto visto che in qualche maniera comunque si parla di ricordi stampati, quindi di questa mia avventura, che presumo tutti conoscono, ma comunque magari ne parleremo dopo, dei ritratti mi piace la parola warshock, perché insomma dico che è l'unico warshock, adesso non voglio dire che sia meglio o peggio di tutti gli altri che fanno i warshock, è meglio, però al di là che sia peggio o meglio, è sicuramente l'unico warshock, al contrario di tutti gli altri, in cui chi insegna, nella fattispecie io, ha sia un work e soprattutto uno shop, perché io ho il work, ricordi stampati, che viene fatto dentro a uno shop, un negozio. Quindi, insomma, la parola warshock è veramente molto... Cazzava bennello. Però guarda... Anche warshock, secondo me, stava bene, stava bene, devo dire... Sottotitolo warshock. Ma sai, adesso... Diamo un po' di... Prego, prego. No, dicevo, diamo un po' di contesto, almeno, insomma, chi non l'ha visto, perché così capisco che magari una persona dice, ok, ma cosa avete fatto per essere così scioccante, no? Cosa c'è? Se vogliamo dare un po' di contesto, almeno lo spieghiamo. Intanto era questo in un'isola e non potete scappare. Intanto era questo in un'isola e non potete scappare. Primo, primo, prima, non si poteva scappare. No, isola che peraltro in passato era un manicomio. Che anche questo è calzante, devo dire. I veneziani, dai tempi antichi, richiudevano lì su un'isola tra Venezia e Lido i matti di... o comunque i deviati, gli eccentrici di Venezia. Quindi già il luogo... Vediamo alcune vibrazioni, devo dire, sì. E poi... E poi come è strutturato? Allora, non voglio fare molti spoiler, però, perché non so, insomma, è bello anche che una persona arrivi e poi, insomma, lo viva per la prima volta senza spoiler, no? Però, ecco, diciamo che c'è tutta una parte di filosofia della fotografia molto densa, ecco. E poi, però, c'è anche una parte in cui effettivamente si fanno degli esercizi, no? Ci si mette un po' alla prova. Posso spoilerare un esercizio? Per esempio, questo esercizio in cui... Dai, raccontalo tu, dai, il primo esercizio che mi ha fatto. Poi dico io come l'ho vissuta. Certo. Allora... Allora... Workshop. Quindi, un pochi giorni, perché un workshop è... Non è un corso di settimane o di mesi, come alcuni fanno e fanno bene anche fare, ma per sua caratteristica un workshop sono da poche ore a pochi giorni, no? Quindi io, infatti, una delle cose che... Prime cose che dico e che l'ho detta a Venezia, che è impossibile che io possa insegnare in tre giorni quello che ho imparato in quarant'anni, no? Quelli che vi dico... Adesso, tra l'altro, io vedo... Sono sommerso di... di... di annunci pubblicitari su... su tutti i vari social, sono dappertutto. Ormai, eh... chiunque, eh... fa corsi, migliora la tua fotografia, portala al massimo livello. truffe, 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 truffe. Cioè, è impossibile in pochi giorni pensare di insegnare quello che ci vuole anni per imparare. È impossibile, è totalmente impossibile. Cioè, se io prendessi, eh... facessi tre giorni di tennis dicendo ti insegno a diventare in campione di tennis e andare a Roland Garot in tre giorni di tennis, no? La gente penserebbe che io sia o scemo o un truffatore, no? Se io dicessi vieni tre giorni di cucina e ti insegno a diventare un grande chef, no? Sarai preso come un cretino o un truffatore, giusto? Giusto. Vieni in corso di scrittura e in tre giorni diventi un grande scrittore, un grande giornalista. impossibile, giusto? Qualsiasi attività, un falegname, tre giorni di falegname e diventi un falegname che fai dei tavoli perfetti, meravigliosi. Impossibile. Quindi già tutti quelli che hanno questa, diciamo, chiamiamola in maniera eufimistica, presunzione di insegnare tutto quello che c'è di insegnare in tre giorni non lo è. Io non insegno niente, è impossibile insegnare qualcosa in questi tre giorni cerco di far capire il meccanismo che c'è alla base di fare della buona fotografia. Il meccanismo, quello semplice, cioè far capire, cioè tutti sanno che se vuoi muscoli devi andare in palestra. Semplice. No, se vuoi muscoli devi andare in palestra. quelli che dicono che per fare buoni muscoli bisogna fare così 57 volte al giorno o sono dei truffatori o sono dei cretini. Però diciamo che è abbastanza noto, tutti sono abbastanza consapevoli che se uno vuole tanti muscoli deve andare in palestra o fare degli esercizi fisici, però già capire questa cosa, cioè capire che per raggiungere certi risultati ci vuole un certo metodo, mentre è chiaro per quello che riguarda i muscoli della palestra è noto a tutti, evidentemente non è così chiaro in questo ambito quanto mai vago e fumoso, diciamo così, apparentemente. della fotografia. Per cui quello che posso fare in pochi giorni chi viene nei miei workshop è fare capire questo semplice meccanismo che per fare i muscoli bisogna andare in palestra o fuori di metafora per diventare un buon fotografo bisogna mettere in moto certi meccanismi e certi elementi per cui se uno li mette in moto se uno li mette in moto e li metti in moto in maniera giusta eventualmente diventa un buon fotografo. Il fatto che io sappia che per fare i muscoli bisogna andare in palestra non ha reso di me una persona muscolosa. Non sono muscoloso. Perché? Perché non sono andato in palestra. Però io quella cosa lì lo so. quindi bisogna averne consapevolezza e poi eventualmente metterle in pratica. Ma la cosa importante è che uno ne abbia consapevolezza. E quindi come dire adotto tutta una serie di meccanismi di provocazioni di input e ne metto cerco di metterne veramente tanti per cui per cui do degli stimoli metto lì degli ingredienti metto dei semi che se poi uno concima innaffia magari questi semi diventano anche un alberello o addirittura una grande coercia. L'esercizio a cui tu ti riferisci che da un po' di tempo da un po' di workshop perché poi poi mi annoio anche quindi da tanti anni in avanti poi questi esercizi ovviamente sono cambiati e uno che un esercizio che faccio ultimamente è anche in relazione alle mie recenti vicende insomma un po' di cose che ho fatto nella nella convinzione che quando uno fa una fotografia ciò che deve fare e qua sono molto devo dire di vittore a Tony Torinbert che questa cosa la sa raccontare e teorizzare in maniera molto molto netta e molto precisa il fotografare non come prendere qualcosa è un classico dei classici la fotografia è un po' strana perché ha tutta una serie di stereotipi di credenze di banalità che sono nella maggior parte dei casi false o addirittura all'esatto contrario di quello che è la situazione ad esempio un classico dei classici rubare il momento mentre invece non si ruba nessun momento anzi non è rubare cioè non è prendere ma è dare ed è un ribaltamento copernicano molto grosso molto forte molto un ribaltamento totale il fotografo formalmente si vede si identifica come uno che va in giro e ruba prende prende mentre invece la realtà è esattamente l'opposto il fotografo è innanzitutto qualcuno che deve essere disposto a dare in tanti sensi forse in tutti i sensi e comunque deve avere un atteggiamento mentale per cui è disposto lui per primo a togliere le difese per concedersi per denudarsi per offrirsi e quindi venendo a noi l'esercizio che da un po' di workshop faccio fare che poi ci racconterai se è stato utile o meno non lo so che però appunto secondo me è molto interessante molto utile e soprattutto serve per far cambiare l'atteggiamento mentale l'approccio alla questione io invito i miei studenti andare in giro dove vogliono e tornare il giorno dopo tornare con una fotografia fatta a una persona e portando in cambio un oggetto che quella persona fotografata ha dato al fotografo in cambio di quella fotografia cioè io voglio la testimonianza che in quel momento fotografico sia avvenuto uno scambio sia avvenuto uno scambio il fotografato ha dato la propria disponibilità la propria faccia il proprio tempo al fotografo il fotografo ha dato al fotografato anche lui qualcosa e avendogli dato qualcosa il fotografato il modello il soggetto quello che vuoi in cambio gli ha dato un oggetto la fotografia è uno scambio quindi io invito i miei studenti a fare questa cosa e tu l'hai fatta giusto? sì sì l'ho fatta insomma ed è stato sfidante poi di fatto perché ti ritrovi a Venezia e con l'esercizio sai c'è c'è questo sentimento un po' contrastante si parte della serie io ho visto due fazioni quelli che partivano scarichi della serie ah no ma come faccio mi vergogno eccetera e quelli che partivano carichi io ero un'altalena tra le due emozioni continuavo a dire no ma adesso no però forse è un po' complesso no però adesso però in realtà quello che poi ho compreso a esercizio fatto ultimato è che col seno del poi l'esercizio comunque diciamo l'ho concluso ed è venuto bene sono stato molto contento poi è successo si è creato proprio un legame con quella persona tanto vedi io ad esempio scusami Michael ad esempio qual è una delle varie conseguenze quando uno fa qualcosa che ha nella fattispecie questo contenuto ma ha un contenuto ok che sillogismo logico è anche un po' stupido la cosa che fai ha un contenuto adesso siamo nel trionfo della banità però nella sua semplicità è così cioè se quello che fai ha un contenuto inevitabilmente avrà un contenuto se non ha niente inevitabilmente non avrà niente cosa vuol dire tutto questo mio pane in giro vuol dire che tu sei partito con un certo approccio e hai hai fatto il tuo esercizio l'hai fatto bene e se quella è la conseguenza Michael la conseguenza è che io mi ricordo perfettamente la fotografia che tu hai fatto perché tu sei andato da un signore mi ricordo tutto perfettamente sei andato da un signore che a causa delle colle che usava per i legni che incollava ha avuto un problema anche fisico è andato in ospedale gli hanno detto cosa c'hai gli ha portato la colla ecco la colla è sbagliata da allora non usa più una nota colla che finisce per il ma usa delle colle biologiche e ti ha fatto fare una fotografia nel suo laboratorio con le sue cornici le sue stampe eccetera eccetera me lo ricordo no? e perché ma perché me lo ricordo? perché quella cosa lì aveva un senso se tu fossi andato semplicemente in giro a fare clic 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 quello che avresti fatto non avrebbe avuto nessun senso e non mi sarei mai ricordato quella 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 storia questo è il punto fondamentale questo è il punto fondamentale cioè forse bisogna ancora ribadirlo perché forse non è abbastanza chiaro andando al succo della questione la fotografia in sé non è niente non è niente non è niente è come scrivere è come scrivere una volta il signor Ansel Adams questo è il mio cane che a suo tempo se l'è mangiato fece questo libro che si chiama Il negativo e tutto questo libro peraltro ci sono anche dei miei segni chissà perché tutto questo libro ok parla del negativo ok solo come fare un negativo giusto con tutte delle delle adesso la trovo delle cioè delle robe tipo così capito ok cioè una volta bisogna studiare questo tabelle questa cosa qui adesso non serve più a niente a zero io lo tengo così per affetto mi piace così mi riposo sopra che magari Anselmo Adams mi dà delle buone vibrazioni è come scrivere una volta una volta nessuno sapeva scrivere nella prima guerra mondiale il soldato semplice andava al tenente che aveva studiato e il tenente avete visto tutti qualche film il tenente si metteva lì e lui foglio e penna scriveva cara fidanzata sono qua sul fronte e ti penso tanto e non vedo dove tornare a casa il tenente scriveva e bustava e mandava la lettera a casa adesso questa cosa qua non si fa più perché tutti sanno scrivere così come tutti possono perfettamente fotografare grazie a questo oggetto qua che fa le foto perfette benissime ottime senza nessuna Ansel Adams non serve a niente zero io metto le mani i capelli quelli che insegnano il sistema zonale ma che sistema zonale ma che sistema zonale truffa sono truffe non bisogna insegnare nessun sistema zonale perché non ha senso insegnare a caricare una penna stilografica nessuno usa la penna stilografica e comunque quello che uno scrive non dipende dalla penna domanda aspetta no finisci quindi quello che conta è sempre stato così anche ai tempi di Ansel Adams anche ai tempi di Ansel Adams ma ora più che mai quello che conta è molto 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 semplice nella sua complessità e cioè che bisogna avere qualcosa da dire punto esattamente uguale preciso identico come nello scrivere quello che conta non è scrivere non è scrivere quello che conta non è scrivere nessuno dice a me piace scrivere e scrivo scrivi cosa ricette lettere d'amore lettere minatorie il piano urbanistico di una città cosa scrivi no quello che conta solo è sempre stato così da Stiglitz in avanti da tutti i grandi fotografi ma adesso più che mai bisogna mettere un contenuto tutto qua mentre invece chissà perché è una roba un po' misteriosa hai fotografi hai pseudofotografi sono tutti quelli nel mondo della fotografia e invece gli piace la penna stilogratica ma secondo voi scusate due scrittori che si incontrano no immaginate Piperno e si incontra con Moravia Re di Vivo ma secondo voi ma parlano di penne dicono io ho scritto il mio romanzo con la penna su la penna io con la matita del 2 perché il 2 cosa gliene frega due scrittori che si incontrano parlano di vita di esperienze di fatti di etica di morale di filosofia di politica dello stato umano delle persone dei braccianti pagati 2 euro cioè no ecco Saviano e Piperno si incontrano parlano di penne no parlano dello stato degli umani delle persone o se sono scusami se invece uno scrittore si occupa di cucina nobilissimo no parlano però di torte non è che parlano anche loro di penne e due giornalisti che oggi sono impegnati col giro d'Italia si incontrano parlano del giro d'Italia non parlano di con quale penna hanno scritto del giro d'Italia non è che parlano se l'articolo per la gazzetta dello sport sul giro d'Italia l'ha scritto su col mac o il pc ma chi ce ne frega parleranno del giro d'Italia cioè parlano di contenuti quello che conta sono i contenuti lo dice anche il te quello che conta sono i contenuti quello che conta sono i contenuti ma senti rispetto all'esercizio quello che abbiamo appunto fatto durante il tuo workshop nella tua esperienza insomma con tutti gli studenti che hai avuto qual è la difficoltà più grande che noti avere nei tuoi studenti qual è l'ostacolo che senti esserci quando affrontano questo esercizio o l'errore più grande che magari fanno innanzitutto c'è un un enorme ostacolo a monte a super a monte per cui il grande enorme appunto in qualche maniera l'ho appena detto il grande enorme handicap di chi si approccia all'astografia è veramente un po' misteriosa questa cosa è prendere coscienza prendere consapevolezza che fare della fotografia interessante buona utile e anche bella sia non una questione estetica ma sia una questione di contenuti e questa roba qui no cioè ad esempio dico un'altra cosa che è marginale ma è sintomatica io così spesso vedo dei profili vari su vari profili di fotografi con sotto il nome della macchina fotografica che usano ma ma per quale ragione ma scusate ma vedete ma hai visto un giornalista che dice ah io scrivo sulla gazzetta dello sport si giro in Italia e uso per scrivere il Mac ma se voi vedeste del genere ma sei scemo cosa ce ne frega a noi no quindi questa perché dico questo perché appunto non lo so veramente sinceramente non voglio fare che non lo so veramente per la maggior parte dei fotografi la fotografia è una questione di estetica di fare una bella fotografia così no così appunto come uno che chi si occupa di scrittura e possa pensare che la questione della scrittura sia mettersi qui e fare un esercizio calligrafico no ah guarda che bella C faccio una C fatta bene è calligrafia nobile se vuoi anche attività se sei forse soprattutto se sei in Giappone nel 1300 però la calligrafia non ha a che fare con la scrittura non è manco parente non c'entra niente quindi il primo il primo problema è quelle persone che capiscono o meglio non capiscono però hanno la 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 sensazione il sospetto eh grazie alle mie tartassamenti che la frattina non è una questione estetica e poi e poi soprattutto adesso ti dico un'altra cosa che è interessante aspetta e poi soprattutto questo fatto di non riuscire a instaurare un collegamento con le persone che fotografano no ma sempre nella convinzione che il fotografo sia lì a rubare quello che volevo dirti che è interessante che anche quello mio vecchio cavallo di battaglia quando facevo il workshop con 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 delle persone con delle modelle presenti sempre durante il workshop la cosa più complessa più difficile più terribile da mettere in testa ai fotografi ai studenti e che sempre non veniva fatta e fargliela fare era difficilissimo nonostante adesso ve la dica e dice una stupidata e cioè chi ha fatto i miei vecchi workshop lo sa benissimo che su questa cosa battevo molto e cioè il fatto che era difficilissimo se non impossibile e all'inizio era sempre impossibile che ciò accadesse e cioè che il fotografo aprisse bocca per parlare alla modella tutti zitti cioè la modella lì clic 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 ma parla io delle volte giuro a qualcuno che proprio niente dopo tre giorni niente giuro così totalmente inutile e pleonastico eccetera eccetera gli facevo contare dicevo conta di uno due tre quattro ci ma apri bocca di qualcosa perché quello lì che è davanti non è un pezzo di legno non è un muro devi avere un rapporto deve succedere qualcosa c'è una foto bellissima qua nella mia biblioteca ce l'ho ma in 448 non lo trovo c'è un libro bellissimo dell'assistente che mi sembra che si chiami Wilson di Avedon che era l'assistente di Avedon quando Avedon fece In the American West che ce l'ho lì il libro se volete poi ve lo faccio vedere c'è questo libro bellissimo che magari tu puoi contemporaneamente guardare su Google backstage è che poi dopo i ragazzi di Spotify non lo vedono quindi metto il link sotto in descrizione così lo trovi perfetto ok benissimo comunque è il racconto del backstage in the American West ce l'ho bellissimo capolavoro di Avedon e ad esempio ci sono delle foto bellissime in cui capisci il linguaggio del corpo di Avedon che si mette nella stessa identica posizione della persona con cui sta parlando e che sta fotografando cioè quella cosa lì è comunicazione è comunicazione capito quindi il fatto di ma d'altronde signori miei è così cioè uno che fa adesso perché oggi ho visto il Giro d'Italia uno che fa il giornalista per il Giro d'Italia e quindi deve analizzare questo evento parlerà con i ciclisti con gli allenatori con gli spettatori cioè non è che sta lì in una bolla di sapone guarda e scrive cioè bisogna domanda ma secondo te da cosa è dovuto cioè il fatto che così tanti fotografi abbiano questa difficoltà innanzitutto perché non sanno cos'è la fotografia ma perché la fotografia pensano che sia avere una macchia fotografica già questo appunto che mettono sul profilo sentimile d'Usi Canon e OS 5 già questo è un disastro perché si parla di presupposto che la fotografia sia la macchia autoratica che il contenuto sia il linguaggio il contenuto non è il linguaggio cioè chi usi la foglia o la penna non identifica se io adesso scrivo una lettera d'amore o la cronaca della giù d'Italia o una ricetta della torta quello che conta è la ricetta della torta quindi questo errore enorme dell'affascinazione dell'oggetto della macchia fotografica della pellicola il negativo e questo tutte cose inutili completamente inutili non solo inutili ma ostacolo perché se uno perde un sacco di tempo a fare la cicalligrafica e fa la c tutta figa col pennino doca col nero pelican di pimpi pera con la carta fatta a mano eccetera eccetera se uno perde tempo in tutte queste cazzate poi la lettera minatoria non la scrive meglio una bic un foglio di carta qualsiasi e dire ma dammi i soldi che mi devi se no ti sparo finito una lettera era per un esempio molto concreto capisci si esatto no ma c'è uno con la telegrafica e poi dice adesso dammi i soldi se no no dammi i soldi è già finito tutto ma guarda allora durante il workshop adesso non è che voglio parlare solo del workshop però parliamo di questo poi parliamo anche d'altro non voglio parlare solo di questo però ci sono stati come dicevo prima tante tanti punti focali che in qualche modo mi hanno lasciato qualcosa no e riguardo a questo discorso mi è piaciuta tantissimo quando tu hai raccontato la storia di questa fotografia del mare appesa fuori dall'ospedale e se vuoi parlarne dopo ti dico la sensazione che ho provato io dopo che ne hai parlato perché io ho trovato interessantissimo questo certo allora il punto è questo io come si presuppone debba essere per uno che fa di mestiere il fotografo io ragiono per immagini cioè per me l'immagine l'immagine la fotografia è lo strumento che per mia forma mentis per cultura per abitudine per esercizio per tante cose è lo strumento attraverso il quale io dico delle cose ok quindi io quando tutti noi presumo se uno non è proprio lobo atomizzato ha delle opinioni su qualcosa no alcuni su tutto o anche delle piccole opinioni io quelle opinioni lì grandi medie piccole che siano le traduco ma penso che questo sia il mestiere di fotografo in immagine ad esempio per non andare tanto lontano questo questo sono contento oggi è il primo video che faccio caro Michael dentro questo mio nuovo studio vi faccio vedere anche il tetto dopo ne parliamo dopo ne parliamo questo che sembra essere una foto incollata dietro invece no invece è proprio lo studio così è il mio studio che è una chiesa sconsacrata no e ad esempio visto che ce l'abbiamo qua dietro ce l'ho qua dietro no perché io ho messo questa foto di una testa di pesce spada è una mia fotografia una testa di pesce spada al posto normalmente lì c'è qualcos'altro no lì c'è proprio il qua dietro c'è il proprio l'altare sono in una vera e propria chiesa no e c'è questa cosa qui non perché mi piace o non mi piace è bello e brutto ma perché nella mia testa ha un significato che è molto preciso e cioè in una chiesa consacrata lì ci sarebbe un altro morto no diciamo così adesso non voglio essere però in una chiesa sconsacrata in una chiesa laica io ho voluto mettere un morto laico che è la testa di pesce spada questo è non è che mi piace o non mi piace ma entra in questo mio ragionamento no è molto semplice quindi io ragiono per immagini quello che voglio dire tutti noi diciamo abbiamo delle opinioni su qualcosa diciamo che è bella sta casa è brutta sta casa è sporco per terra fa umido fa caldo fa freddo guerra non so abbiamo delle opinioni il fotografo queste opinioni le traduce in immagini che magari hanno il vantaggio di essere più immediate più veloci no venendo a quello a cui ti stavi riferendo Michael dell'ospedale molto molto semplice la questione e cioè ho avuto purtroppo negli ultimi tempi ho dovuto andare in ospedale qua in Peria e entrando uscendo all'ospedale ho visto che fuori dall'ingresso all'ospedale c'erano questi due grandi spazi per i manifesti sempre tre quelli grandi che erano desolatamente vuoti no non c'era niente neanche una merendina o un'automobile una pubblicità di niente no perché crisi economica covid e quindi è proprio triste questi grandi sei per tre con tutta la roba precedente strappata uno schifo e anche ho detto che peccato sei per tre e mi dispiaceva per gli infermieri i dottori che di questi tempi i poverini ne hanno viste di tutti i colori i pazienti e quindi ho detto sarebbe bello che gli si desse una un piccolo sollievo no uno entra esce all'ospedale e vede una cosa piacevole e e quindi ad esempio sì ho fatto una fotografia che esattamente l'opposto cioè spesso volentieri è la fotografia che dico sempre di non fare no però ho pensato di fare una fotografia che potesse essere godibile e fruibile in tre secondi senza nessun intellettualismo no una roba che doveva essere piacevole semplice fruibile no e e poi con anche dei sificati l'alba e quindi ho fatto un'alba no dopo la notte c'è c'è la c'è il sole che ritorna quindi la vita che torna no insomma così quindi ho fatto un'alba e senza costi peraltro zero no perché io l'ho fatta gratis gli spazi sono nel comune che ovviamente li ha dati gratis le stampe abbiamo trovato un gentile stampatore che le ha stampate gratis quindi a costo zero per tre mesi fuori d'ospedale ci sono state queste due enormi stampe di questa alba sul mare bellissima e servita no è sicuramente servita anzi è certamente servita un sacco di persone mi hanno scritto ah che bello infermieri al mattino dopo il turno di notte uscire vedere quell'alba davanti all'ospedale è stata una cosa meravigliosa cioè è servita cioè il punto fondamentale è tutto qua stringi 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 quando uno fa il fotografo ma esattamente uguale quando uno scrive quello che hai prodotto serve o non serve se serve va bene se non serve non va bene semplice molto semplice se io prendo un foglio una penna e adesso vedo qua e scrivo delle parole a caso non serve a niente perché dovevo farlo ma per quale ragione solo perché per provare una penna nuova mentre è molto meglio che io usi una bic un foglio qualsiasi e scriva la lista della spesa mi servirà al supermercato perfetto sai cosa mi ha colpito di questo progetto quando ce l'ha raccontato se possiamo chiamarlo progetto comunque di questa idea è che innanzitutto mi ha colpito anche quando ho detto stasera che essendo un fotografo io ragiono per immagini e quindi mi immagino te tra l'altro che non so uscendo hai visto questo spazio insomma ti è partita dalla rotella e hai iniziato a pensare cioè il ragionamento è stato ah se non c'è niente sarebbe bello se ci fosse qualcosa e poi subito dopo hai detto beh se non c'è niente quel qualcosa potrei metterlo io cosa potrebbe essere interessante per gli altri e da lì hai fatto una foto che di fatto la foto è la cosa più semplice di tutto il processo ma certo perché fare una foto all'alba cioè io l'ho vista la foto bellissima insomma ma molto semplice di fatto non è che non mi immagino che hai dovuto prendere un set lucid 5 assistenti semplicissimo semplicissimo eppure l'impatto di quel lavoro quando io l'ho sentito detto cazzo cioè io sinceramente io non ci avrei pensato forse perché ancora non sono come dire a livello nel quale quando ho un'idea penso di tramutarla in qualche modo in fotografia attraverso la quale aiutare qualcuno però fare il fotografo è quella cosa che dice fare il cuoco è aprire un frigorifero abbandonato da tempo e trovare una carota una mela dello zenzero e dello yogurt scaduto se uno è uno chef con quelle quattro cose lì de merda più di là che di qua fa un piatto però cioè perché ragiona vede queste cose che io e te diciamo che schifo e le buttiamo e lui se uno chef quelle quattro cose gli dà un senso questo è importante gli dà un senso gli dà una coerenza e produce un piatto buono commestibile eccetera eccetera io e te vediamo una carota marcia una mela una cosa che schifo le buttiamo quindi è questo è fare il fotografo ragionare per immagini questo è fare il fotografo ragionare per immagini una frase che tra le varie frasi che mi insomma nella mia così ho detto ho scritto però me la ricordo bene che ed è la prosecuzione di quello che tu hai appena detto ed è totalmente vero che la fotografia la fotografia il click per un diciamo così un fotomatore adesso non voglio denigrare uno fa benissimo a fare il fotomatore però no giusto per chiarirci la fotografia per un fotomatore è l'unico vero problema per me la fotografia è l'ultimo dei problemi è l'ultimo non è anzi non è il problema la fotografia dell'alba per l'ospedale in imperia ma poteva farla anche un altro davvero uguale la fotografia per me è l'ultimo dei problemi cioè il click ma quello anche questa cosa qua la dico spesso nei workshop tutta l'operazione è una catena degli anelli di catene lunga un chilometro il click è l'ultimo anello della catena è l'ultimissimo quello è click dato che la catena è fatta da tanti anelli è lunga un chilometro capisci bene che la parte importante sono tutti gli anelli prima non l'ultimo anello click quello chi se ne frega cioè Newton Limburg Avedon adesso dico dei nomi di Gandhi Trophy così mi vengono in mente Stiglitz Weston sono noti sono importanti sono fondamentali per la filosofia che ci titolano le loro immagini Ansel Adams è il suo enorme affetto non più che affetto è il suo amore incondizionato verso la natura verso Yosemite Park verso la natura come uno stato mistico cioè quella è la parte fondamentale la parte fondamentale di Ansel Adams è il suo rapporto mistico con la natura quello è il punto non il sistema zonale il sistema zonale è in tempi antichi in cui era complicato e fare un negativo perfetto se aveva un libro grande così si è dovuto inventare il sistema zonale ma adesso io non voglio mettere in bocca al povero Anselmo delle cose che magari non pensa ma lo facciamo lo stesso tanto è andato a Ansel Adams il sistema zonale non gli fregava niente a lui gli importava la natura e infatti e quindi la vera domanda è tu fotografo che mi stai ascoltando a te cosa interessa qual è il tuo argomento cosa ti piace veramente qual è la cosa di cui attraverso il linguaggio fotografia vuoi parlare è tutto qua qual è è tutto qui tu fotografo che mi stai ascoltando di cosa ti interessa a te perché a tutti piacciono le stesse cose a tutti piacciono il bosco mentre nevica e la capanna nel bosco mentre nevica con il fuoco acceso e una tazza calda in mano e e la spiaggia bianca delle Maldive al tramonto mentre si beve una birra quelle robe lì piacciono a tutti però a qualcuno gli piace farsi dare dei calci nei coglioni uno deve parlare di quella cosa lì non del bosco mentre nevica perché quella roba lì il bosco mentre nevica è una banalità che piace a tutti a te solo a te cosa piace cosa interessa qual è l'argomento tuo questo è il punto anche chiederti perché ti piace perché quello è un livello più profondo invece di dire mi piace il bosco magari perché ti piace il bosco mentre nevica cosa ci trovi di interessante qual è il motivo davvero reale perché mi ricordo la mia infanzia come? solo a te esatto perché ti piace a tutti perché altrimenti succede quello che succede del trionfo delle fotografie banali stupide orrende tutte uguali le fotografie sono tutte belle se uno prende qualsiasi profilo di qualsiasi tipo sono tutte belle le fotografie è impossibile farle brutte è impossibile farle sbagliate impossibile è possibile dai no beh ogni tanto è possibile cioè io ho alcune brutte le ho viste però no no capisco capisco perfettamente il discorso no c'è l'assunto di tutto questo cosa ti interessa? una volta che hai trovato il motivo per cui ti interessa qualcosa rielaboralo aspetta aspetta scusa Mike aspetta Mike scusa purtroppo c'è un passo indietro al cosa ti interessa che è un filo più complicato e tra virgolette doloroso e cioè tu chi sei? sei disposto eh ma mi ci metto in mezzo anch'io cioè io non ho la pretesa di avere la risposta a tutto ciò vi dico la ricetta poi sei disposto ad accettare e a far vedere quello che sei che è molto più complesso perché è un passo indietro perché la vera grande difficoltà di chi vuole non dico essere un artista ma un autore un creatore ecco perché guarda qua veniamo alla cosa che ti ho mandato prima il messaggio che è il punto per dirla scusami e cioè tranquillo perché prima andando in motorino mi è venuto in mente una cosa che ti ho mandato un messaggio per ricordarmela però si si aggancia bene si aggancia bene spero di riuscire io stesso a spiegarmela e a spiegarvela così come c'era nella mia testa e cioè ognuno di adesso non voglio farla troppo complicata troppo esoterica che non lo è ma è semplicemente delle ricette semplici concrete per fare le cose fatte bene molto semplici e cioè ognuno di noi ognuno di noi ha una sua specificità ognuno di noi veramente a lui a me a te a chi ci ascolta gli piacciono solo a lui certe cose o non gli piacciono solo a lui certe altre cose cioè ognuno ha una sua specificità perché è vero che tutti noi diciamo ah che figata essere i Rolling Stone una rockstar però magari dopo un mese in giro a fare una rockstar ognuno dice basta non puoi camminare per strada ti riconosco non puoi fare niente cioè anche fare la rockstar non è sta gran meraviglia nel senso ognuno deve capire e trovare la propria specificità e usare quella lì quello che invece spesso succede è che noi ci adattiamo a dei trend che piacciono a tutti sopprimendo la nostra autenticità mentre invece bisogna fare esattamente il contrario bisogna bisogna usare la propria specificità per analizzare qualcosa che aderisce alla nostra specificità cercando di essere più concreto nella fotografia tutti vogliono fare quelle tre quattro cose lì vedo dei fotografi che chissà perché prendono una modellina prendono una finta truccatrice la truccano la pettinano la vestono cioè cercano di aderire a qualcosa che non gli appartiene e fanno finta di fare il servizio fotografico per il grande giornale e facendo tutte delle cose farlocche che non hanno nessuna aderenza con quello che loro fanno facendo finta di fare la fotografia per il giornale con la finta modellina con la finta truccatrice la finta trucchiere e alla fine i vestiti presi nella boutique dietro l'angolo tutta una roba farlocca che si disgiunge da quello che quello lì è se quello lì è ve lo dico con grande affetto un cretino che vuole fare le robe da cretini ma è meglio che faccia le cose cretine sarà più autentico invece di far finta di fare l'alta moda che poi la mette sul sito di Vogue e le pubblica sul proprio profilo Instagram sul sito Vogue non stai facendo Vogue non è vero è tutto farlocco quello che conta è e mi ci metto in mezzo anch'io non avendo mica la certezza che che mi riesca eh quello che conta è l'autenticità accettare capire accettare quello che uno è e fare quella cosa lì e vi do sta notizia se uno accetta capisce e accetta quello che uno è e fa quella cosa lì che lui è intanto sarà l'unico al mondo primo e non fa finta di fare Vogue con la modellina tutto finto tutto farloco cercando di aderire a qualcosa che non gli appartiene se uno invece cerca di capire e accettare che è la cosa più complessa quello che uno è e produce qualcosa all'interno di quella autenticità inevitabilmente produrrà qualcosa di interessante uno perché è unico perché come lui c'è solo lui al mondo e due è autentico ed è meglio una merda autentica piuttosto che una ragosta la catalana finta è vero se si sono d'accordissimo e questo però dicevi chi spiegava al messaggio che mi ha mandato che nello specifico però c'erano proprio delle parole specifiche nel messaggio volevo riprenderlo come era come mi ricordo più allora mi avevi scritto aspetta che vado a riprenderlo ecco qua dicevi è un argomento diverso ma lo leggi attitudine statistiche di instagram ricordati di parlare ma sono due cose diverse attitudine è questo qua che ho appena detto ok no vabbè l'altro è una cazzata nel senso che non c'è da niente però visco le dette diciamolo no vabbè ma diciamolo no vabbè così non c'è da niente no vabbè no ma è una cazzata dall'alto al basso nel senso che no vabbè no ma però in qualche maniera ha a che fare cioè in qualche maniera ha a che fare invece guarda e cioè sai purtroppo ma per sua natura perché in qualche maniera ha a che fare con glamour con la moda una serie di cose per cui la fotografia inevitabilmente ha una dose di farlocchismo non indifferente no cioè io non conosco nessuno che apre un profilo instagram con scritto idraulico no così poi magari invece fa il dentista e poi agli amici ma io faccio l'idraulico no o fa l'idraulico o non fa l'idraulico cioè non è che e questo io penso nel 99% delle professioni al mondo uno fa una certa professione e fa quella professione e basta nella fotografia appunto per tutta una serie anche di aspetti del fumo che la circonda in effetti c'è questo andazzo che veramente invece di diminuire lo vedo sempre più ricco di farlocchismo no di gente che che compra i follower che pubblica su riviste che non esistono tutto una roba inutile che è inutile che lascia il tempo che trova nel senso capisco il narcisismo e l'ego delle persone che fa figo dire io qui io su io giù io là però ci viene in soccorso e questo è la cosa un po' stupidolta però mi diverto e vi suggerisco a volte di andare c'è una un'app che non ricordo come il nome adesso ve la dico aspetta c'è un'app che si chiama No Just Analytics tra l'altro conosco e avevo intervistato ai tempi tra l'altro abita vicino a me il fondatore Iari ecco ecco fai gli miei complimenti perché trovo che sia un strumento molto interessante No Just Analytics è un'app che tu metti il profilo Instagram di una persona e ti dice la statistica e io vedo delle cose a volte sono curioso mi dico 500 400 mila e capisci dopo anche io che sono un incompetente però capisci che tutto farlochismo finto tutto il trionfo del finto assoluto quindi è uno strumento interessante perché però i limiti del narcisismo sono infiniti io vedo delle persone che è evidente come la luce del sole che hanno dei bots dei bot nei loro profili e gli rispondono anche loro sono consapevoli che quello lì che scrive è un computer il computer dice bella questa foto e loro dicono sì grazie e lo sanno che stanno scrivendo a un bot a un computer però vabbè sì sì ho capito benissimo ho capito benissimo e no tra l'altro davvero quello strumento è super utile per analizzare il proprio e per analizzare quello degli altri quando si hanno qualche dubbio per andare a vedere non è male sì assolutamente e invece volevo parlare un po' insieme allora ci sono un paio di cose che volevo dirti la prima è volevo parlare di ricordi ma la cosa che volevo raccontare di ricordi è perché l'abbiamo già ampiamente parlato già col documentario insomma voglio dire spiega molto bene so che si è voluta molto però quello che io non sapevo e che poi ho scoperto quando appunto ne hai parlato al workshop è l'origine di ricordi cioè come è nata davvero quella cosa lì e a me piacerebbe molto parlarne perché anche qui è questione di attitudine alle cose e credo che in quello tu abbia avuto un'attitudine incredibile che poi ti abbia premiato e ti abbia portato poi a dove sei adesso cioè credo che non sia stato un caso il risultato con quel tipo di attitudine capito però mi piacerebbe raccontarlo ecco sì perché in effetti poi le origini di quel progetto sono varie nello specifico cioè a cosa ti tristrisci in particolar modo a quale a me a me piacerebbe che tu raccontassi di quando tu per la prima volta se vuoi raccontarlo chiaramente della prima volta che sei andato come dire hai creato il tuo stand per la prima volta il mercato quel mercato esatto di come è iniziato proprio la prima primissima volta di ricordi quando ancora non era ricordi mi pare di ricordare tra l'altro ricordare in verità la prima 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 volta in cui ho messo in moto quel meccanismo lì è stato una mostra e cioè io ho fatto una campagna agitaria per un centro commerciale che c'è fuori Milano grosso bello insomma tutto così e questo centro commerciale avevano degli spazi grandi che erano inutilizzati dai negozi insomma non erano stati ancora affittati e quando hanno aperto il centro commerciale con la mia campagna agitaria quando c'è una normale così mi avevano detto ma perché prenditi uno di questi e facci una mostra non così pensando di farmi piacere ovviamente mi faceva un piacere e soprattutto magari pensando che io avrei messo lì delle foto di modelle queste cose qua però evidentemente c'era già nella mia testa un'insoddisfazione un desiderio di cambiare poi insomma io cerco sempre un po' di io stesso sorprendermi quindi di fare io stesso delle cose diverse da quelle che io ho fatto la volta prima per così appunto sorprendermi e quindi l'idea di mettere le foto le modelle mi sembrava noioso e al che non so bene bene come mi sia venuto in mente però ho pensato che mi sarei piaciuto fare una una mostra che ho intitolato io non esiste dove appunto cercavo di e lì è una è un un origine un big bang abbastanza fondamentale dell'operazione dei ricordi stampati dove io cercavo di annullare ogni narcisismo ogni egocentrismo per appunto fare una mostra in cui la mostra sarebbe stata quelli che sarebbero venuti a vedere la mostra per cui se la mostra cioè se le persone fossero venute la mostra ci sarebbe stata se le persone non fossero venute la mostra non c'era e già questo è un altro elemento molto importante cioè il rischio prendere dei rischi questo è fondamentalissimo fondamentalissimo ma altronde anche questo riguarda qualsiasi attività umana nel senso che uno deve rischiare se no chi non rischia non rastia molto banale e quindi feci questa mostra in cui feci l'inaugurazione invitiamo la stampa anche perché questi qua avevano un ufficio stampa insomma così le mostre benedusi in centro commerciale tutta la stampa lì abbiamo tirato giù i tendoni e non c'era niente c'erano muri bianchi la mostra non c'è la mostra siete voi se vi faccio il ritratto e attacchiamo le foto le pareti e se se vuoi e quello è stato proprio un po' il vero big bang della questione e io che temevo che non venisse nessuno anche perché questo posto è un po' fuori Milano invece sono venute centinaia sono migliaia di persone sono bellissime e questo è il primo inizio il secondo inizio più invece e di fatto poi hai messo tutte le foto e poi ho messo tutte le pareti e alla fine questo posto aveva centinaia di ritratti attaccate alle pareti no fammi dire due cose perché scusami perché cioè io quando ho visto le foto insomma di questa mostra del prima e dopo ora vorrei come direi mettere un po' di enfasi su questo ti propongono di fare una mostra tu sei un fotografo che ha foto per fare le mostre quante ne vuole ok rinuncia a questo e si trova in un contesto in cui quando tirano giù il telo io l'ho visto quello spazio non c'è niente se non una sorta di cubo che era il cubo bianco in cui poi tu avresti fatto i ritratti da appendere fuori ma non c'era niente niente insomma devo dire la dose di rischio perché per quanto poi dopo quando il risultato è venuto dici cazzo che figata è stato un genio bellissimo sì ho capito dopo ma prima quanti l'avrebbero fatto davvero cioè quanti si sarebbero preso insomma il coraggio la forza anche di dire no io faccio questa cosa vediamo come va se va male tra l'altro va male e va male tanto non è che va male poco va male tanto quindi insomma è interessante questo e alla fine invece c'era questa stanza piena di fotografia piena di ritrovi ma questo è fondamentale un po' tornando sul workshop questo è un altro elemento sul quale sai che io ho molto battuto ma anche qui non è una questione legata alla macchia autografica alla fotografia riguarda qualsiasi attività e cioè di rischiare bisogna rischiare bisogna rischiare bisogna bisogna essere innovativi bisogna fare sempre un passo in avanti bisogna facendo una cosa che si è già fatta qualcun altro vuol dire che l'ha già fatta facendo una cosa tranquilla e tranquilla ma d'altronde signori miei è così in qualsiasi attività umana nel senso che le sedie vengono fatte sempre in maniera più innovativa e la superleggera è una sedia rivoluzionaria rispetto alle sedie medievali grandi e grosse di legno che pesavano 200 kg cioè l'attività umana la musica la musica è sempre una rivoluzione chi fa veramente il musicista è innovativo e deve essere innovativo rispetto a quello che si è fatto prima perché se uno fa sempre la stessa roba è la storia della musica dell'arte della letteratura 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 chi scrive deve essere per forza rivoluzionario innovativo rispetto a quelli che vengono prima quindi questo vuol dire due cose uno che bisogna conoscere quelli che vengono prima perché se no cosa fai? no? quindi uno la conoscenza la cultura fondamentale fondamentalissimo e due la necessità il desiderio la volontà di fare un passo in avanti rispetto a quelli di prima a volte si riesce a volte no però lo sforzo per farlo è fondamentale e questo è molto importante quindi sì quella volta lì ma poi sai cioè adesso cioè è stata una un'esigenza cioè non la foto la mostra con le modelle veramente non l'avrei mai fatta cioè mi faceva orrore non volevo farla bisogna bisogna andare avanti questo è fondamentale bellissimo e poi in realtà non è stato l'unico rischio che ti sia preso questo perché subito dopo quella mostra c'è stato l'altro pezzetto che poi è stato diciamo l'innesco presumo per farlo diventare poi i ricordi che tutti conosciamo in qualche modo sì il mercato sì anche lì però è stato il la conseguenza di un pensiero di un ragionamento questo altro elemento che mettiamo dentro nella ricetta della torta per fare della buona fotografia forse l'abbiamo già detto forse non abbiamo detto abbastanza se è vero come è vero che della pena del foglio non interessa niente nessuno quello che conta è il contenuto e il contenuto inevitabilmente qualsiasi contenuto è e deve essere fonte di un pensiero di un ragionamento anche il contenuto più semplice del mondo anche la lista della spesa per il supermercato è derivazione di un ragionamento nessuno fa la lista della spesa al supermercato con scritto yogurt banane insalata cemento armato chiodi e burro no no nessuno lo fa perché nessuno lo fa perché non ha senso perché non è non è non è un giusto ragionamento non è un giusto pensiero perché alle selunga il cemento armato non lo vendono il cemento armato a casa non serve a niente quindi no quindi il ragionamento il pensiero è fondamentale uno deve mettersi lì e far lavorare questa parte i fotografi far lavorare questa parte qua invece quello che uno deve far lavorare è da qui dagli occhi in su e quindi tornando a ricordi stampati dopo quell'esperienza che ho visto che fu meravigliosa le persone entusiaste cioè fu una cosa veramente pazzesca di notte non dormivo dall'eccitazione di tutte queste centinaia di persone che veniva a farsi ritrarre no è che ho pensato di istituzionalizzare questa cosa renderla lavoro no renderla concreta veramente e e ho pensato che se era vero come è vero che fino a quel momento ho fatto un tipo di fotografia che era andava per paradigmi no andava per era aspirazionale una fotografia dove si prendevano le top model per le copertine delle vidiste cioè una fotografia piramidale no dove c'era sempre qualcosa di più bello più meglio più figo più più contemporaneo più fashion che non so io volevo fare esattamente l'opposto questa è un'altra ricetta che metto dentro nella torta sempre della fotografia insomma in questa chiacchierata forse ci sono un po' di elementi che poi messi insieme fanno forse la torta giusta e cioè mi permetto di dare proprio un consiglio semplice semplice fate datemi retta fate l'opposto di quello che fanno tutti ma proprio l'opposto cioè se tutti vogliono avere i follower su Instagram datemi retta non avete non fate Instagram non so adesso è un consiglio strampalato però fare l'opposto di quello che fanno tutti gli altri secondo me è la scelta giusta tutti fanno prendono una modellina la truccano la pettina facendo finta di fare il giornale fate l'opposto prendete una vecchia cicciona non truccatela fate l'opposto è sempre più interessante e quindi torno a me decisi se era vero come è vero che facendo i giornali ero all'interno di un approccio aspirazionale decisi di fare esattamente il contrario e cioè di fare qualcosa se prima facevo qualcosa di esclusivo antidemocratico elittario ho detto voglio fare qualcosa di democratico inclusivo popolare per tutti e ho pensato qual è il posto soprattutto in Italia più democratico più inclusivo più popolare che peraltro a me personalmente se ti mi dici piace da pazzi perché è per me il posto più bello nel mondo e quando ci vado sono felice con la Pasqua il mercato il mercato tutti i fotografi vogliono andare alle Maldive a fare dei top model che non è giusto sbagliare cioè va bene non va bene ma oggi perché invece il mio grande desiderio a un certo punto è stato quello di andare in un mercato a fare ritratti alle persone un enorme desiderio proprio è stata una cosa che ho voluto in maniera molto forte e anche è stato complicato perché perché ho fatto tutte le burocrazioni la mia assistente Francesca lo sa bene ho fatto tutta una burocrazia che non potete immaginare di quanto sia complessa ho fatto i permessi la camera di commercio ho fatto addirittura da qualche parte chissà dove l'ho perso non so ho la licenza di venditore ambulante giuro ho fatto tutta una baradana per avere la licenza di venditore ambulante e a fine direi siamo nel 2022 quindi secondo me sei anni fa penso nel 2016 sei anni fa che mi sembra in verità una vita fa sono andato al mercato di Modena in questo periodo in giugno c'è un caldo spaventoso e ho messo lì la mia tenda da circo sono andato prima a Milano in un posto molto bello che affittano i costumi teatrali e mi sono comprato un vestito affittato un vestito da domatore del circo di lana peraltro c'è un caldo spaventoso e mi sono piazzato lì a Modena altro elemento fondamentale l'outfit col quale si fotografa è molto importante non per essere fighi non fighi ma perché la maniera in cui si veste quando si fotografa parla di noi dice delle cose su di noi quindi è importante io tutta la mia vita quando fotografo penso sempre a come vestirmi ribadisco non per questione di moda non Armani o Dolce Gabbana non è quello il punto ma d'altronde uno dice ma come pensi a come vestirti per fare le fotografie perché che strano se voi entraste dal vostro dentista e il vostro dentista fosse vestito da meccanico voi vi fareste trappanare i denti no? voi entrate al dentista e quello vestito da meccanico tuta blu anche un po' sporca d'olio dice ah molare vieni qua che te lo tolgo voi vi fareste togliere il dente da quella persona è tutta questione di avere un senso le cose e anche la maniera in cui uno si pone è importante e comunque quindi andammo a Modena col vestito da domatore con la tenda da circo e lì cominciai a fare ritratti a venderli perché nella prima esperienza non li vendevo perché ero sponsorizzato dal centro commerciale invece in questo caso è la prima volta in cui le persone mi pagavano per il ritratto e anche lì fu un'emozione pazzesca incredibile ricordo come fosse adesso la notte dopo del primo giorno che avevo i soldi in tasca e dice allora quello che faccio ha valore perché non è questione del soldo in sé è questione di dare valore a quello che tu produci e nella fattispecie della fotografia è una cosa molto importante di fatto è risultato dell'idea del valore del lavoro che hai fatto per loro e poi immagino perché c'è stato questo grande misunderstanding e me ne sono reso conto parlando insomma del progetto di ricordi anche con gli altri ragazzi o comunque in generale che la gente pensi che il progetto ricordi ti riesca bene perché sei settimio benedusi ma invece io stesso quando sono venuto da te insomma l'ho visto molto bene questo e invece pochissimi sanno chi sei tanti non lo sanno cioè se fossi stato io lì a fotografare per loro ero uguale cioè per loro ero io settimio benedusi in quel momento non sapevano chi tu fossi e questo è interessante soprattutto lì in quel momento al mercato c'era gente che va al mercato non c'erano i tuoi e quindi tu ti sei messo allo stesso livello di come avrei potuto andare io cioè è la stessa cosa tu sei lì con la tua tenda tutto bello ordinato così però non investi di settimio benedusi il fotografo che fotografa le modelle alle balmas no come settimio benedusi quello che ha questa idea la metti in atto vediamo se funziona se funziona qualcuno compra se non funziona nessuno compra ma certo ma sì anche perché sempre e sempre 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 ma per tutto questione di progetto quello che conta e anche qui i fotografi sai perché non lo capiscono conta il progetto contro il progetto contro il progetto punto cioè adesso lungi da me di fare adesso paragoni totalmente sconsiderati però ho da questo ripresa la sto facendo con un con un Mac quindi la prima cosa che mi viene in mente è il Mac ovviamente Steve Jobs è importante eccetera eccetera ma quello che conta è il progetto che Steve Jobs aveva nella testa quando ha fatto questi computer è il suo progetto che ha fatto diventare Steve Jobs Steve Jobs non è che lui è nato Steve Jobs arrivato da qui da sopra qua dal cielo stellato dalla mia chiesetta e no aveva un progetto un pensiero e il pensiero era molto molto semplice think different i computer per quelli che pensano diversamente punto e tuttora quell'idea lì semplice base essenziale è tuttora l'anima di quelli che comprano e usano il Mac che a torto ragione sono convinti di pensare diversamente di essere un'alternativa rispetto al mainstream il progetto quello che conta è il progetto uno che vuole fare il fotografo bene qual è il tuo progetto qual è il tuo pensiero cosa vuoi dire qual è la tua idea sulla vita la morte il sesso la guerra il computer la moda la moda la moda adesso il nostro amico Toscani ce l'ha detto in lungo in largo lungi da me di volerlo scopiazzare ma diciamolo la moda tutti adesso vedo il suo strionfo di questi qua che fanno i fashion fotografi e il fotografo anche lì la modellina di provincia con una giacchetta la moda non è la giacchetta non è una camicia la moda non lo è la camicia è la conseguenza di un pensiero e uno da fotografo di moda deve lavorare su quel pensiero cioè se sei negli anni 60 e sei a Londra e incontri Mary Quant Mary Quant decide di tagliare la gonna e fare la minigonna ma non è semplicemente una gonna più corta non è una questione di tessuto non è questione di gambe è questione di rivoluzione la rivoluzione che c'era in quel periodo una rivoluzione sociale la libertà delle donne e i reggiseni che vengono tolti dalle donne buttate nel fuoco eccetera eccetera è un momento storico sociale e il fotografo se è veramente tale deve usare la fotografia per raccontare quel momento storico e sociale attraverso un'apparenza che sono i vestiti ma i vestiti sono l'ultimo dei problemi anzi sono fondamentali ovviamente ma è l'apparenza quello che conta è la sostanza tutti questi qua che fanno finta di fare i fotografi di moda fanno una modella col vestito da sera truccata pettinata quella lì non è moda non è fotografia di moda non è manco parente non c'entra niente niente di niente di niente di niente è imitazione di uno stereotipo già trito e ritrito che non ha nulla a che fare con la moda ma proprio niente anzi è l'opposto perché la fotografia di moda essa più che qualsiasi altra attività deve essere rivoluzionaria deve essere innovativa la Mary Quant che prende le gonne lunghe le taglie e fa dentro le minigonne è una rivoluzione enorme sociale politica di libertà della donna e potremmo parlarci per due ore quello è quello che conta sì è quello che come dire un altro punto cardine che vorrei che passasse da quel che poi ho capito è che come dire l'idea che tu hai del mondo delle cose può anche essere un'idea semplice cioè non c'è bisogno di come dire sforzarsi di avere un'idea per avere un'idea ce l'hai già ma ma certo può essere molto semplice ognuno ce l'ha ognuno ognuno ce l'ha ognuno è diverso il grande errore è adeguarsi all'idea degli altri appunto a dire adesso voglio fare il fotografo di moda prendo la tipa qui la più carina del paese poi prendo la parrucchiera che fanno fare sai perché i boccoli poi la truccano dire tutto uno schifo ci si adegua alle idee degli altri ed è una una schifezza invece quello lì lui è come chiunque altro una sua identità se uno con sincerità e autenticità autenticità si guarda ognuno ha la propria autenticità e quella bisogna usare molto semplice bellissimo ti piacciono piantarti le penne degli occhi perfetto parla di quelli che si piantano le penne degli occhi piace solo a te benissimo parla di quello ma a proposito di autenticità vogliamo dire cioè che l'abbiamo accennato prima ma insomma è passato un po' sotto ma vogliamo spiegare bene a tutti cosa ci fai in una chiesa sconsacrata perché a proposito di autenticità no? con il cielo stellato guarda bellissimo bellissimo diceva Kant diceva Kant il cielo stellato sopra di me la legge morale dentro di me quindi io sulla legge morale dentro di me non ci metterei la mano sul fuoco però sul cielo stellato ce l'abbiamo uno su due l'abbiamo messo uno su due ce l'abbiamo c'è anche aspetta si vede una specie di di colomba eccola qua ecco la meravigliosa ma spiegaci è il mio nuovo studio anche le candele accese è il mio nuovo studio avevo per tanti anni ho avuto uno studio a Milano in Porta Romana poi tutte le vicende covid bimbi libera cambiamento ecco questo permettimi di usare questa cosa per un altro elemento della ricetta adesso anche qui non voglio fare il noscio di noi altri e fare il mistico che non sono ma specialmente cose molto pratiche molto concrete vedo molto spesso di di persone fotografie insomma adesso non la fattispecie parliamo di queste fotografie che aspetta che è cascato questo che che con le manine cercano di ostacolare il cambiamento cioè arriva lo tsunami e fanno così con le manine per ostacolare meglio farsi portare no? rivolgere John Lennon che diceva no? la vita è quello che succede mentre noi eh decidiamo cosa fare della nostra vita mi sembra che fosse il sì 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 ma però è così cioè che adesso forse siamo in contraddizione con il fatto del pensiero no no uno deve ovviamente pensare ragionare e non 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 farsi prendere così dagli eventi però però la serendipity questo è un termine che a me piace tanto tantissimo serendipity è un termine che piace moltissimo ho fatto anche un progetto fotografico tanto tempo fa che si chiama serendipity serendipity non esiste in italiano c'era fatto anche un film e serendipity più o meno vuol dire andare a cercare fragole e trovare pere o eccetera andare a Londra per trovare un lavoro e trovare la fidanzata andare a Ibiza per trovare la fidanzata e trovare un lavoro questo è serendipity però è importante cioè intanto andare da qualche parte fare delle cose mettersi intanto muoversi intanto muoversi commentare cioè tu vai a Ibiza trovare la fidanzata a lavoro ma qualcosa troverai se sei a casa tua non trovi niente e poi comunque adattarsi usare quello che succede a tuo interesse e a tuo beneficio e sempre all'interno del tuo pensiero ma usarlo no? adesso tutto questo panegico per dire che c'è stato il covid siamo venuti qua in peria e per tanto tempo l'idea che io chiudessi lo studio bellissimo che avevo di Milano era visto da me come una tragedia eccetera eccetera ma invece no cioè adesso dico una cosa che la dico scusa con le mani non in vista ma qualsiasi tragedia a parte quella definitiva però se poi muori chi sei necessario sei morto ma qualsiasi cosa che succeda lo penso veramente lo dico sempre con le mani sotto qualsiasi cosa che succeda anche ma soprattutto quella più apparentemente malsana o sfortunata o addirittura pericolosa o addirittura nefasta nefasta il termine giusto ha sempre dentro qualcosa di positivo che bisogna cogliere e se ho detto così sembra molto misticheggiante e noscio di noi altri ma lo penso veramente cioè la miglior possibilità che ti può capitare lo dico sempre con le mani sotto il tavolo la miglior possibilità che ti può capitare è che ti arrivi una grande sfiga ma lo penso veramente lo penso veramente cioè se succede qualcosa che non era previsto e quindi non è nei tuoi piccoli ragionamenti ti porta inevitabilmente a fare delle cose che tu non avresti mai fatto che hanno sicuramente qualcosa di interessante cioè adesso lo dico sempre la mano sotto le cose domani mattina mi arrestano e vado in carcere apparentemente è una cosa che io ovviamente spero che non accada e non voglio che accada ma se io domani mattina mi arrestassi e andassi in carcere sarebbe molto interessante farei e scoprirei delle cose persone che da quello che che donatina farò non non succederà e in qualche maniera è peggio adesso questo non vuol dire che io speri che donatina mi arresti no no sono molto sincero se succedesse sarebbe molto interessante e dannati mi dico ma l'ho arrestato in carcere la doccia mi inculano no vai in carcere no cioè se ci penso ripensavo insomma mentre parlavi a tutti i momenti critici della mia vita ai più critici e in effetti sono stati tutti tutti inevitabilmente adesso mi verrebbe da dire momenti di grande svolta in effetti tutte svolte inaspettate cioè tutte le svolte inaspettate che ho avuto nella mia vita sono dovute al fatto che effettivamente poco prima o lì c'è stata una crisi importante è certo scusa la vicenda mia qualche anno fa della milza no cioè qualcuno lo sa qualcuno non lo sa fatto sta che qualche anno fa una sera tra l'altro casualmente allora stavo a Milano fisso comunque quel giorno casualmente ero qua in Peria e una sera fa tipo una coltellata nel 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 fianco e ricoverato d'urgenza operato nella notte tra l'altro ho rischiato proprio di morire quindi ehm rianimazione insomma tutto quelle cose lì e eh e tra l'altro il giorno dopo cioè se non avessi avuto eh se non avessi avuto e questo è anche interessante come da raccontare che forse alcuni sanno però trovo che sia molto interessante eh il giorno dopo eh sarei dovuto essere al MIA a Milano eh a fare sia un'operazione cioè un'operazione no un un lavoro eh un progetto molto interessante che poi ha fatto al mio posto grandi colleghi amici Giovanni Gastel Tony Toriberd e tanti altri vabbè eh eh e avrei dovuto fare anche una conferenza eh molto importante con Oliviero Toscani no? eh allora se uno mi avesse detto il giorno prima tu preferisci rischiare la vita avere un sacco di male nel fianco tipo coltellata andare in animazione andare all'ospedale o fare il progetto al MIA e il talk molto figo e prestigioso con Toscani ovviamente avrei detto la seconda no? se va a san dire adesso io dico senza ombra di dubbio ma veramente lo giuro su quello che vuoi che preferisco di gran lunga essere stato in rianimazione ma proprio senza dubbio se avessi due pulsanti qua adesso mi riportassero indietro e la conseguenza fosse che siamo qua a parlare io schiacerei sicuramente questa è la rianimazione e peraltro anche qua veniamo a noi alla fotografia anche lì io feci un lavoro fotografico che trovo peraltro essere il mio lavoro più bello di tutti e anche lì feci un lavoro da fotografo nel senso che volevo dire delle cose e le ho dette usando la fotografia e cioè cosa è successo per chi non lo sapesse quando mi hanno mi hanno stavano per dimettermi dall'ospedale io ho voluto ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato all'interno dell'ospedale infermieri riduttori sono tutti anche perché ti rendi conto dell'enorme fortuna che noi abbiamo a vivere in Italia e avere un sistema nazionale gratuito ed eccellente cosa che non è scontata perché ci sono paesi vedi l'America molto ricchi ma l'America non ce l'hanno o paesi poveri che non ce l'hanno proprio quindi non è una certificazione divina il fatto che in Italia ci sia il sistema nazionale che funzioni perfettamente bene con grandi professionisti e completamente gratuito non scordiamoci io avendo provato sulla mia pelle letteralmente tutta questa meraviglia volevo ringraziare le persone e cosa ho fatto ho fatto i ritratti agli infermieri i dottori che erano lì che mi hanno curato trovo che anche questo molto interessante tecnicamente ho fatto tutto dal letto dell'ospedale e tutto con il telefonino ho fatto le foto ho impaginato ho trovato chi me lo stampava io gli ho mandato le foto con il telefonino tutto dal letto dell'ospedale non mi sono mostrato dal mio letto ok questo qui è venuto a portarmi i manifesti 70-100 l'ho pagato con la banca sempre al telefonino e il giorno in cui sono uscito all'ospedale ho tappezzato l'ospedale di questi manifesti con i ritratti degli infermieri e sottoscritto grazie quindi aver avuto l'operazione e tutte le conseguenze della Baradano mi hanno permesso di fare quella che per me è la mia mostra più bella in assoluto ma senza dubbio alcuno quindi tra il mia e il talk con Toscani e la rinanimazione meglio la rinanimazione e comunque uno deve usarla cioè ti sta accadendo quella cosa lì usala usala non è che dici disperazione no perché se comunque il tuo atteggiamento è di chiusura e di disperazione sarai chiuso disperato anche a fare il talk con Toscani verissimo verissimo guarda c'è una cosa di te che è proprio uscita molto forte durante insomma i giorni in Venezia perché poi di fatto in quei giorni comunque abbiamo vissuto tante ore insieme tra l'altro tu ti sei speso tantissimo va detto e quindi tutto il giorno anche la sera fino a tardissimo era disponibile milioni di ore insomma è infinito e una cosa che ho notato molto forte di te è la tua potente sensibilità che a volte come dire sai sembra nascosta un po' dall'atteggiamento che a volte a qualcuno può sembrare arrogante no a volte un po' saccente magari però in realtà sotto c'è una grandissima sensibilità un grandissimo cuore e in quei giorni è proprio venuto fuori tanto tanto da emozionarci tutti c'è stato dei momenti in cui tutti ci siamo emozionati ed è bellissimo come dire scoprire anche questo lato di te che se una persona guarda bene sa percepisce che c'è questa sensibilità perché altrimenti nessun lavoro verrebbe come lo fai però poi come dire viverti in quei tre giorni e scoprire anche questo lato di te che comunque magari è anche un po' più personale no passi indietro però è molto presente per me è stato un enorme regalo e quindi insomma di questo ti ringrazio figo come ti ringrazio io e te ma non lo so adesso non lo so ti ringrazio ma ma guarda un'altra cosa che ti dico che ho notato e questa non te l'ho detta insomma è una cosa che ho notato e ti dico qui così a un certo punto tu perché è importante hai aperto il tuo desktop del Mac che eravamo lì che trafficavamo con le chiavette ricordi c'era sempre i casini con le chiavette non funzionava questo e quell'altro e a un certo punto tu hai cliccato tra i tuoi preferiti e tra i tuoi preferiti c'era una cartella fotografi se non vado errato una cosa del genere e in quella cartella fotografi c'erano infiniti link di pagine di fotografi con progetti interessanti ma non so sono state non so io penso 250 non so davvero tantissimi infiniti e quello che ho pensato è stato cioè questo non è preparato cioè non è che hai preparato i link per farmeli vedere per dire oh guarda che io comunque cioè io me li guardo in fotografi su internet eh guarda qui che no tu stavi cercando un'altra cosa all'interno di un'altra roba in quel momento ero lì per caso perché la chiavette non funzionava tu stavi cercando e ho visto questi 250 fotografi questo per dire no che il risultato che una persona ha è sempre conseguenza di un grande valore dietro di un grande lavoro dietro e di grandi valori e e a volte a me sembra che questa cosa non venga percepita e quel momento lì più di tante altre cose che ho visto mi ha fatto mi ha fatto proprio riflettere su questo su quanto lavoro tu nel silenzio e nel tuo nella tua giornata nella tua quotidianità lontano da qualsiasi riflettore luce stories foto cose qualsiasi sei lì a guardarti fotografi e a segnarti le cose interessanti e a informarti e dico c'è davvero tanto lavoro dietro tanto tanto lavoro e sì certo certo ma sai anche qui di nuovo io penso che sia chissà perché veramente la fotografia viene vista e spesso anche vissuta in maniera diversa distonica come rispetto alle altre tutte le altre attività umane io penso che cioè il mio amico Saturnino musicista quello pensa sempre alla musica cioè è sempre lì che ascolta nuovi pezzi nuove cose a me piace la musica ma così ogni tanto cioè così no quello ossessionato dalla musica uno che ha un ristorante Giuliano un amico che ha il pescatore di Milano ma secondo me quello alle tre di notte è lì che pensa a cosa cucinare il giorno dopo se i pesci sono arrivati cioè uno deve essere infatti una parolina che spesso viene usata che come tu forse sai che a me non piace tanto è passione perché passione è così uno tutti c'è una passione per tutto a me piace molto di più come parolina la parolina ossessione uno che è focalizzato su un argomento ma qualsiasi esso sia se uno fa il maestro gioca a scacchi ed è uno scacchista professionista ma io presumo che quello passi la vita a pensare ai scacchi no sempre sempre e analizza le aperture le chiusure e guarda i video di questo di quello di su di giù di là quindi però chissà perché nella fotografia ma sempre perché la fotografia ha una supposta presunta usiamo la presunta che mi sembra più elegante di supposto la presunta facilità per cui tu fai click fai la foto e quindi click fai la foto ma quello lì non è fare il fotografo è fare click che è un'altra cosa tra l'altro hai letto il libro Open di Agassi sì l'ho anche spesso volentieri cazzo Open quando l'ho letto l'avevo molto consigliato e citato cazzo anche lì no tu dici madonna quello lì Agassi ha la passione il talento per il tennis cazzo il padre che costruisce la macchina che e e e forse ve l'ho detto anche durante il workshop ed è una cosa che dico spesso che sembra così una mia butade ma invece è vera Agassi in quel libro dice chiaro tondo che lui odia il tennis lui lo odia il tennis lo odia il tennis ma io odio la fotografia cioè io cioè adesso amico mio sono le 22.57 no io sono qui a parlare con te di fotografia no ma a me che cazzo me ne dovrebbe fregare no no dove stare a casa tranquillo c'è il mio c'è un mio libro che sto leggendo su sull'olio d'oliva è questo e mi è arrivato il nuovo libro di Gabriele Galimberti bellissimo ah bellissimo 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 e sto leggendo l'altro libro dove ce l'ho qua dietro cioè avrei di meglio da fare che spalare con te di fotografia che mi sono anche un po' l'ottimo John no in effetti lo capisco quindi io la fotografia la odio ma non è una battuta è vero perché non posso non odiare qualcosa che mi costringe a pensare ad essa 25 ore al giorno 8 giorni a settimana e 366 giorni all'anno quindi sempre quindi però è una necessità capito è semplicemente una necessità è la maniera che non so neanche io perché forse dipende da lui è la maniera che qualcuno mi ha assegnato per esprimermi per cui se io voglio ringraziare gli infermieri dell'ospedale sono costretto diciamo così a farlo se fossi stato un pasticcere gli avrei fatto una torta fossi stato un poeta gli avrei fatto una poesia fossi stato una puttana gli avrei fatto una carezza una carezza sono un fotografo e ho fatto il manifesto con i ritratti quindi come dire è una 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 necessità ecco è una necessità però appunto il libro di Agassi la racconta molto leggete open la dice molto lunga questo qui che tutta la vita mette il parrucchino perché tutta una serie di storie pazzesche incredibile sì sì guarda mi mancano gli ultimi 30-40 pagine che adesso andrò a casa a finire di leggere non muore non muore ok l'assassino non è il poliziotto e lui non muore ok perfetto meno male guarda settimio allora io ti ringrazio davvero 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 ho un sacco di cose da dire ancora hai ancora un sacco di cose allora guarda facciamo così allora sono le 23 in questo momento quindi due ore abbiamo fatto due ore due ore quasi due ore sì quasi due ore sarà un po' troppo lungo no va benissimo va bene mi piace così come inizio forse puttana lo tagliamo puttana no mi si accorcia molto si accorcia non tagliamo niente niente ma niente ma guarda allora ti ringrazio perché la mia idea di incominciare con Vivium era ricominciare con Vivium era proprio questa cercare di portare una parte perlomeno dell'esperienza che io ho vissuto e che come come dire una lampadina mi ha detto mi ha fatto dire ok c'è ancora qualcosa da dire e sono felicissimo che tu mi abbia dedicato il tuo tempo e in piccolo spero ma ne sono convinto di aver portato un po' di quello che abbiamo vissuto insieme e delle esperienze che abbiamo vissuto insieme chiaramente insomma è un'esperienza da vivere e la consiglio a tutti tra l'altro è assolutamente un'esperienza da vivere però ti ringrazio davvero per il tuo tempo perché poi comunque non è cioè l'abbiamo già detto ma non è una passeggiata ecco no non lo è per niente ma proprio per questo la consiglio e poi volevo semplicemente ringraziarti per il tuo tempo perché non lo do per scontato ecco quindi davvero grazie di cuore davvero grazie sono felicissimo da il pesce spada la testa del pesce spada e qui questo è il simbolo della Provenza questo è un regalo di Tony Thorinbert bellissimo qui abbiamo un sacco di Tony Thorinbert e le bottiglie di Toscana bellissimo guarda e una macchina questa è una macchina foro stenopeico ah meravigliosa quando verrò in Peria verrò a vedere il tuo studio ah ti aspetto assolutamente ti mando un abbraccio grande grazie Marco grazie a tutti grazie di tutto ciao a presto alla prossima ciao